bella a tutti ragazzi eccoci qui tornati in un nuovo video di brosart oggi siamo in compagnia di mio carissimo amico edoardo ciao vai lo giochiamo allora vediamo subito casse 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 perfetto già ho visto un po' di casse si che allagga io? te sei allaggato no te io non sto allaggato no mio eccolo c'è un bull da me c'è una rosa e un nuka ci stanno distingendo aiuto 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 no 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 i due vai siamo due naggi tu è meno uno io zero no no vaffanda vediamo che vuoi io sto cercando di scappare edo metti il gioco ancora vai cazza guarda devi anche quella davanti a noi la quindi non devi mettere niente infatti io dopo mi metto io metto questo eh poi io no dai lasciami a me no perchè tra pochi io prenditi questa cassa da me vediamo giù la piazza eh sicuramente te aiuto edo aiuto aiuto dico la andata vai no ci conviene perchè adesso abbiamo un tanti power up dietro sono quini sono qui ma che non li ero e piani Sì è giusto Sì è giusto Sì è giusto Sì è giusto Sotto Andando a prendere Vai 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 ci stai davanti Vai fatelo Killatelo Cicca Sì sì Ok Oddio per un attimo non ti vedevo mi sta prendendo un colpo Mi hai pensato che mi erano ucciso E' robocchi dietro da di me Vai bravo robocchi Ecco ORDino Ma che li sei morto Tu ne muori E io muo zur No, muovi, 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 ti muovi REopers Eee sono morto Tra quanto gli fang, Sì Supponendo Sì Dai e sie Sul伊 ma non metto il davantore no, esco il fatti ma non ho capito perché ne hai più caldo ah, cazzo davanti al cittadino di quanto è già mai? di che? di quanto è già mai? 5 io di quanto è mai vede, vedi, vedi, vedi vede, vedi dai, fanno come va, ti sanno ma non è, non mi piace guarda, cazzo è bello, vede vuoi parlare anche io perché è l'unico che fa che c'è raggio più di un tavolo vai, vai, ti sceglie ti sceglie, bravo credo è buona cosa che non vi sto vedo l'unico vai se mi sono apportata da qui poi magari vediamo qualcos'altro tipo il raffo c'è un'altra partita di partite vai davanti e faccio questo davanti poi vieni da me infatti quella di qua e quella di questa vieni da me poi di corsa corri 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 batte edu scappa 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 edu scappa vai edu preferisco ai bravo ho sicurato cosa è non ho sicurato come dovete neanche vedere allora 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 sempre da qui partiamo No! Aspetta, fammelo passare dopo! Sì! Oh! 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 Si! C'è un'altra cosa? Oh! 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 guarda lì che ho, oh lo sto ammazzando, oh ci vedo vieni da me poi, corri corri corri, dammi dammi già ho preso le due cassa ammazzami, ho preso ci vedo, ho ammazzato colpi, mi ammazzai guarda aiutami adoro ma che è morto? credo questa ce la canturiamo va bene aiuto non voglio morire aiuto bravo, vattene da lì sii godo aspeto, eh si vedo, io scatto scatto vedo perchè è morto vabbè ho ammazzato, ho ammazzato il terzo più quanto? più sette mi è venuto io per questo grado al tutto e che esce perché si mette? perché si mette? perché si mette con questo bambino? che cosa? è che è che se mi dici guarda da 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 tu la ti faccio 280 come una seconda con la fisica super Alessandra se ce la fai no quanto c'ho? dai 212 io sto a 224 ma ce l'hai ricerca? si ricercati ti conviene mettere celli e do qui le pc dei play se muori l'ho perso se muori? si no no rinascito rinascito è la fine del gioco ecco appunto già gli ho regalato 4 stelle si è morto male si è morto male da me Shelly tanto muori malissimo Shelly e tu torna un attimo indietro che ti facciamo la vita e tu torna un attimo indietro che ti facciamo la vita ok bulla è morto dai oh ma io sono morto ma tu ti vede colpa di se sono morto una volta io ti vede colpa di se sono morto una volta dai sai che faccio il vio vio vieni quell'altro no 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 vieni che è morto no vieni che è morto sono tornato ad essere quello lì che c'è ancora più io ho fatto tutta la partita più kill non è vero l'ho fatta è più io non è vero lì ma da 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 no ma che l'ho fatta come potenziare come potenziare sui scelmi se no a livello 6 buono io vedo a livello 4 eh? io vedo a livello 4 ah no a livello 4 io vedo a livello 4 eh non devi abbandonare perchè hai 48 perchè hai fatto quella un fotogamico cioè trofei che cosa che cosa ce l'ho fatto che cosa ce l'ho fatto corri e dobbiamo correre ci dobbiamo uscire si chiama filippo ma che ci metti? no quello dell'altra squadra ma perchè non è così no ma io parto sempre con le 4 stelle no 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 se no no mulessi qui c'è una scelle selvatica è l'ultima che l'ho lasciatemi gaglie no, l'ho appena fatta io sempre io migliore wow si piu vi facciamo l'ultima partita? ok tra dieci coppe facciamosi altre due partite e così tra dieci coppe ci sblocca pure il blu anzi facciamosi l'ultima partita quindi ok vai guarda se parte al centro ma ok un fluke e meno wifi anche io non wifi vai infine fanno bene debbano laggare chi ne vuole tolto? come lo vuole tolto? fanno dai no 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 ho lontano no 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 lontano fattemi dove vai tranquillato tranquillato figlia del primo il primo madonna è il primo ahahah è arrivato è qui ma io stai andando a lì e da il primo lo dobbiamo invillarlo sempre a distanza perchè lui è buono da no 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 Vabbè Direi che possiamo concludere qui questo video Se anche a te fa piacere Ok saluto tutti